Il Master Emerald è un oggetto sacro e molto importante e va trattato con rispetto tanto quanto a trattare una ragazza Su, continua il discorso No Il mio istinto dice che ho appena commesso uno sbaglio Spostati, oh canana Ora basta! Vuoi farvi l'era? Io ti faccio l'era Basta, dai ragazze Viva Valeria Va bene Finitela, basta Finitela Sonic No Non si interrompe mai una riscia tra ragazze Mai Amy, si può sapere dove sono le mie scarpe? Nel solito posto, dove ci sono le scarpe Sonic? Già guardato lì dentro, ma le mie non ci sono Guarda, se vengo lì e le trovo, ti gonfio come una zampogna Come vuoi, ma ti giuro che non ci sono Ho già controllato dieci volte E queste? E queste cosa sono? Ehm... Voi mi volete morto, maledette scarpe Vector caro, ti dispiacerebbe stendere le lenzuola? Oh, ehm... Tranquilla Miss Vanilla Lo faccio volentieri Signor Vector, hai steso le lenzuola? Ouch, ci ho provato, ma sono state loro a stendere me Signor Vector, hai steso le lenzuola? Certamente, e non solo Le ho ammanettate e sbattute in prigione Finché non avranno scontato la pena per essere bagnate Sono bravo nel mio lavoro, vero? Notte Silver Notte Blaze 3, 2, 1 Sono una donna distrutta E' partito Mastro Geppetto a lavorare Con tutta la segheria Silver, girati! Eh? Oh, cosa? Ok, mi giro Scusa Come far smettere di rossare il proprio partner? Mmm... Vediamo Ma che cosa ho fatto di male stavolta? Oh sì, pace e silenzio come piace a me Rouge! Che cosa hai rubato? Niente! Ah sì, e dove ti trovavi ieri? Bella strada Smetti di mentire! Ti hai fatto tu la rapina! Giuro stavolta è l'ultima No, ti arresto! Non mi importa Ma no, e che fai? Prendi la mira baby Ma che... Clic boom boom Aiutatemi! Aaaaaaah! Aiaah... E anche questa volta ti ho battuto faccia d'uovo Eeeh... Avrei anche distrutto la mia ultima creazione Ma pensi davvero di aver vinto? Aspetta, cosa? Allora aspetta di vedere cosa ha qui! Oh no! Oh no! Aha! Ah, fiu! Meno male, per un attimo ho temuto al peggio Eeeeee... Mi suicidio in allegria Cognome Il mio Cognome Quello di mio padre Capelli Non li ho mai contati Altezza Chiamami pure maestà Dove vivi? A casa mia Via? No, grazie Resto Nato? Ovvio Dopo nove mesi Dove? Ospital Con che mano scrivi? Con la mia Ma se vuoi Uso la tua CRIM Perché non sei a scuola? Ma io sono a scuola CRIM Non mentire Mi ha appena chiamato la scuola Informandomi che non ci sei Non è vero CRIM Uffa Ti giuro che sono a scuola Vieni a vedere se proprio non mi credi Molto bene amore di mamma Hihihi Cinque minuti sono lì Ti conviene esserci Perché in caso contrario Quando torni a casa Ti do il resto Ehi CRIM Che cosa stai? Chaos Control Ma che? Quello non l'ho mica insegnato io Giuro Scherac Martin Ma che hai Ho 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 Lo Ho 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 Grazie a tutti